come sta vivendo questa finale scudetto l'avete portata a gara 5 siamo molto contenti oggi tutta la squadra ha fatto di tutto per vincere questa partita molto dura e sono molto contento è stata l'ultima euro suole all'euro suole per quest'anno sentite il pubblico immensi è una lube che cambia pelle giochi tu giocano gli altri però alla fine avete un grandissimo carattere infatti l'hai detto tu giochiamo tutti e questa nostra forza perché entrano dei ragazzi da fuori e giocano come delle bestie quindi di nuovo ripeto siamo molto contenti e andiamo a gara 5 ce la vinciamo ora avete molto l'inerzia siete voi col sorriso in campo loro hanno perso se inerzia o no davvero non fa niente andiamo a gara 5 siamo carichissimi e ce la portiamo a casa